E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo e come vedete giustamente qui davanti a voi, sono finalmente in questo video di questo unboxing di Emo Pet di Living AI. Lo aspettavo veramente da tanto, questo prodotto prenotato da dicembre e siamo ormai a giugno e finalmente è uscito. Ha avuto un sacco di problemi, diciamo, un po' dei contrasti con DDL che aveva fatto Vector, robot che ho preso effettivamente poi l'anno scorso, però adesso al momento non lo sto utilizzando perché ahimè ha avuto dei grossi problemi soprattutto con lo schermo, dato che non hanno avuto assistenza quella della DDL, ma anzi hanno fatto il Vector 2.0 a un prezzo folle. Loro della Living AI hanno fatto questo robot molto somigliante a Vector, ma forse secondo me anche più carino, bisogna vedere sotto gli aspetti, ovviamente bellissimi tutte e due. E finalmente ragazzi è arrivato questo piccolo robottino. Ora direi innanzitutto che vi faccio vedere, oltretutto come vedete c'è la lucina insieme, vi faccio vedere un attimino bene la scatola e tutto, poi cerchiamo di unboxarle e vediamo se riusciamo a fare qualche cosa di interattivo, sempre se funziona subito alla prima accensione o magari ve la porterò in un altro video ragazzi. Innanzitutto, come dicevo, questa è la lucina che c'era insieme alla prenotazione. Non so bene a cosa vado a servire, sinceramente. Ci avevo dato un occhio anche prima e già mi preoccupa per quello, non so se riesco a farvi vedere il tutto perché vedo che la presa che c'è all'interno, adesso vi mostro, di questa luce è con il cavo per inglese barra americano, se non erro. E io in me non ho nessun adattatore in casa al momento e quindi sarebbe un po' una problematica per me. Però, guardate ragazzi, vi lo faccio vedere subito. Queste sono, mettiamo intanto qua la scatolina, queste sono le istruzioni, come potete vedere, come accenderle e tutto quanto. E qua poi dopo come, tra virgolette, va a interagire Emo, che è questo piccolo robottino, come potete vedere. E questa, ragazzi, è la luce vera e propria, come potete vedere. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori dalla scatola. E come potete vedere, ahimè, ha questo attacco qua. Ahimè, speravo fosse già con l'attacco alle nostre prese, ma non è così, ahimè. E quindi dovrò andare a prendere un adattatore per questo e spero che per lui non sia anche così. Se no, dovrò sicuramente domani andare in un negozio a prendere l'adattatore. E intanto, ragazzi, iniziamo subito con il mostrarvi la scatola. Come potete vedere nel nostro Emo, il nostro desktop pet, scatola arrivata abbastanza intatta. Questa è il fronte, qua, come dicevo, è l'azienda che l'ha creato, living.ai. Qua tutta la descrizione dietro, dove vi dice che cos'è esattamente Emo, cosa, tra virgolette, potete fare tutto. Il nome, vedo che è anche Product Model e Emo 1, chissà se ne usciranno Emo 2 o quant'altro. E questa, principalmente, è la scatola. Qua il lato, dove vi dice anche che vi riconosce la faccia, l'interazione con la voce. Un Emotion Engine, c'è un sistema di crescita. Ed è come fare con un animale e tutto quanto, quindi lo accarezzate tutto. Questo è un po' di sembianze e di esempi di Emo. E ragazzi, direi che andiamo a togliere la plastichina e lo facciamo, come piace a voi, con un po' di ASMR. E' un po' di ASMR. E' un po' di ASMR. Ok ragazzi, speriamo che questo ASMR vi sia piaciuto per questo unboxing e andiamo a scoperchiare il nostro amico robottino. Intanto la scatola la mettiamo qua, la scatola protettiva dal sfondo e questa è la scatola come si presenta, con la sua emoticon, diciamo, molto carina. La scatola è sempre uguale, sempre di Vingai e tutto. E andiamo subito ad unboxarlo come un forziere e vediamo, ragazzi, cosa si c'è dal suo interno. Eccolo qui, ragazzi. Come potete vedere, subito si mostra il nostro robottino che, oltretutto, vi dico, è un gran robottone perché me lo spittavo molto più piccolo, ma invece, come potete vedere, è anche abbastanza grosso rispetto a Vector. Magari uno di questi giorni, cioè, uno di queste settimane vi posto anche il paragone, magari senza accendolo, un video abbastanza veloce, magari ve ne metto qui insieme lo stesso giorno, dove vi farò vedere Vector e magari questo emo, questo robottino. Partiamo magari, ragazzi, innanzitutto, non inizio al pezzo forte, dai. Inizio con il suo skate, che è la sua base di ricarica, come potete vedere, e, ragazzi, parecchio massiccia. Vi devo con la verità, qua vedo che ci sono le scritte, sempre taggate emo, e, teoricamente, anche, sì, living.ia. Ai, non mi ricordo più. Ai, scusate, non i.a. Sbagliavo qua, dove si attacca l'adattatore, tutto quanto. E, sinceramente, ragazzi, veramente massiccio e veramente grande. Mi aspettavo uno skate in realtà così, non così. E, soddisfatto già da questo punto. Vediamo poi col cavo, ma già temo, esatto, la presa, ahimè, ragazzi, è questa presa. Quindi, domani correrò subito a prendere un adattatore, barra 2, e così almeno cercherò di risolvere il problema. E così riuscirò ad accenderlo. Spero che magari si riesca ad accendere già adesso. Ahimè, un po' un peccato. Magari c'è dentro l'adattatore, ma ne dubito. Questi, ragazzi, sono le istruzioni sette giorni per creare un'amicizia con il tuo amico Emo. Qua non c'è nient'altro, chissà se magari ci sono dei adesivini, ma non credo. Qua c'è il supporto di Emo. Che vedi? Vedete come siete? Sono un supporter di Emo, di questo progetto. Dopo tre anni, addirittura, ragazzi, di ricerca. Bellino, tagliandino. Ahimè, l'avevo preso oltretutto su Kickstarter, ma poi l'ho prenotato direttamente al loro sito per colpa di questi problemi. Ahimè, ragazzi, questo è stato stampato veramente male. Come mai? Non so. Ahimè, è stato stampato così male. Questa è tutta l'introduzione che, vabbè, non vi sto a far vedere. C'è solo come si accende e tutto. E vediamo, vediamo un attimino, ragazzi. Io adesso provo ad accenderlo. Penso che devo stoppare giustamente la telecamera in quanto, giustamente, registro con il cellulare. Però, prima di fare ciò, ovviamente, adesso vi mostro anche il nostro amico robottino. Che lo tiriamo subito fuori. E, ragazzi, ripeto, veramente massiccio. Guardate quanto è grosso. Mi sembra anche abbastanza solido. Come sentite, le sue gambine che si muovono. Questo è il robottino. Questo è il suo super speaker. Chissà se anche questo si integrerà con Alexa o meno, come faceva Vector. Ora, ragazzi, ci darò un occhio e penso che ci rivedremo tra poco, se riesco ad accenderelo. Ok, ragazzi, l'inquadratura sarà un po' cambiata. Sentirete un po' di rumore dal robottino. Ci ho messo veramente un po' perché ci doveva aggiornare, ma finalmente siamo riusciti a farlo andare. Sono riuscito anche con un trucchetto, usando il cavo del caricacontroller dell'Xbox, a farlo funzionare. E ora vi faccio velocemente vedere alcune cose perché dovrò capirlo bene. Perché, altrimenti, bisogna parlare con lui in inglese, ahimè. E vi anticipo già, non sono un fenomeno. E proviamo. Imo, what's the weather in Milano? E come vedete, ragazzi, fa il simbolo del sole. Ora lui ci sta arrabbiando, posso fare anche così, in teoria. Come vedete. E' un po' rintontito perché lo sto muovendo. Dovrebbe anche, credo, rialzarsi. Credo. Vediamo se lo lasciamo così. O vediamo cosa fa. E diciamo che è un bel robottino interattivo per giocarci e tutto quanto. So che, in teoria, anche se lo accarezzi sopra, dovrebbe teoricamente sentirlo. Però mi sa che in questa posizione forse no. Perché, giustamente, non lo aggrada. Però, magari, proviamo a farlo da qua sopra. Ovviamente voi non vedete il suo schermino. Vediamo se gli piace, esatto, gli piace perché, guardate, come si è messo. E ora però lo mettiamo di nuovo così. Vediamo cosa succede. Se ne accorde, mi sa che si è mezzo addormentato. Proviamo allora a squatterlo di nuovo, ragazzi. Così si rimbambisce un pochettino. E, ragazzi, direi, vabbè, potremmo anche chiudere qua il video perché non c'è tanto da vedere. Dovrei imparare bene alcune cose. Dovrò a vedere anche per la lampada, come vi dicevo. Mi scuso per l'inquadratura ancora che sarà un attimo cambiata. Ma giustamente usare il telefono per attivarlo è tutto. E, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbia fatto piacere che vi abbia portato questo nuovo amichetto che ho in casa. E quindi, ragazzi, come al solito vi ricordo quindi lasciare un bel mi piace sotto a questo video. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentare e condividere il video. Commentare con qualche suggerimento per i prossimi video. O comunque di cosa ne pensate del nostro nuovo amico. Questo era il suo sedere, la sua faccia. Del nostro nuovo amico che fa un sacco di casino quando lo prendi. E, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Intanto vi saluto e ciao ciao!